Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Milano Fashion Week qui a Milano, nel centro di Milano. Irina Tirdea per voi, Iris by Irina Tirdea, inviato Iris TV. Vi ho preparato grandi sfilate, a parte di loro abbiamo già cominciato a pubblicarli, però nei prossimi giorni vi ho preparato dei grandi spettacoli. Vi ricordo stasera, dopo le sfilate, vi aspetto al Giascavalli di Milano, festeggiamo After Party Milano Fashion Week. Domani nel Museo Leonardo da Vici, proprio qui a Milano, vi abbiamo preparato una grande grande sfilata nel Urban Style, Street Style. Oggi vi propongo un piccolo pezzo stile by Irina Tirdea, per voi Iris TV. Oggi vi ho paura, vi abbiamo preparato una grande sfilata nel gruppo di Milano, festeggiamo After Party Milano, festeggiamo una grande sfilata nel gruppo di Milano, festeggiamo un po' di Milano, festeggiamo un po' di Milano, festeggiamo un po' di Milano. Grazie a tutti.